Pronto? Ciao Sidney, ti ricordi di me? Che cosa vuoi ancora? È arrivato il tuo momento. Non lo sai che la storia si ripete? Qualcuno sta esagerando con la passione per i serial. Gli studenti del college sono stati brutalmente assassini. C'è polizia ovunque. La ragazza è stata pugnalata sette volte. Salve, Gail Weathers, autrice dei delitti di Usboro. È un opportunista. Smettila, ci ha salvato la vita. Lo so, l'ho letto anch'io il libro. Il film sarà bellissimo. Qualcuno non vuole che il terrore abbia fine. No! Sidney, ti senti minacciata da questi omicidi? Che devo fare? Questo pazzo omicida potrebbe essere una persona che già conosci. Vuoi startene qui seduto a vedere chi sarà la prossima vittima? Stanno cercando di fare un serial. Quindi dobbiamo osservare le regole di un serial. Primo, il numero dei cadaveri aumenta. Secondo, le scene del delitto sono più elaborate. Come troviamo l'assassino? Questo voglio sapere. Controlliamo i sospetti. Non vi sto disturbando, vero? È lui. Ci sta guardando. Vuoi morire stanotte? Non sai fare di meglio? Perché non punti più in alto, eh? Vuoi essere un grande? Manson! Mandy! O Jay! Aiuto! Scream 2 Qual è il tuo film horror preferito? Sugar Assolutamente spaventoso. Che è il film horrorume. Quattro. Ampettoso. Volta. Grazie.